ciao ragazzi è chiaro che allora benvenuti in questo nuovo video ed è chiaro che il titolo è un po' fuorviante starete pensando ma che cago lo sta dicendo ecco però effettivamente quello che ho detto è vero nel senso che la juventus ha vinto il cambiato della florida una juventus che chiaramente non è dei giovanili che salveranno di nuovo ma è una squadra un academy che gioca a miami ma che fa parte proprio della juventus la juventus che ha creato adesso se riesco a trovarlo ve lo vi faccio vedere anche se è difficile non mi ricordo forse qua vi dico beh sono più preciso dell'età che hanno sono la squadra del 2005 e ha vinto dunque il campionato della florida dunque adesso vi spiego e voi se non lo sapete ve lo spiego io negli stati uniti ci sono tanti campionati regionali statali eccetera 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 e la juventus ha creato tante academy ma non solo negli stati uniti ne hanno organizzate anche in tante parti del mondo ecco questo lavoro che fa la juve è veramente eccezionale consente due cose la prima di scovare i talenti da qualsiasi tipo di calcio la juve crede molto nel calcio statunitense perché ha aperto tante academy la e fare cassetto perché comunque tu per giocare nell'academy della juve comunque insomma quando vuoi iscriverti in una squadra a calcio dappertutto i soldi comunque li devi tirare fuori no e poi la terza cosa più importante espandi il marchio cioè la juve non grazie alle academy grazie ai supple tournay grazie alle varie cose e anche le academy in Italia insomma il marchio si spagna e tra l'altro le academy che sono curate per vincere poi magari non vinceranno però questo risultato è sicuramente eccezionale della squadra di Miami a cui vanno i complimenti miei della società che sicuramente è il lavoro che sta facendo vi ricordate ho fatto un video pochi mesi fa proprio di una partita tra la juventus però di di nuovo contro un'academy della squadra di New York questa squadra era stata chiamata appunto dall'academy della juventus guarda interessante andate a vedere e sono andati quindi questo per far capire che le cose veramente funzionano anche molto bene anche con le academy quindi ogni academy ha una sua struttura e funzionano tutte bene funzionano tutte bene in particolar modo quella di Miami che lo ripeto vince il campionato della Florida